ciao a tutti e ben ritrovati un piccolo video su un basso frittles con la tastiera rettificata chiaramente perché un basso economico una decal fender jets quindi non è un originale però ho visto con delle corde queste sono le dr quelle nere suona molto molto bene lo faccio sentire un po' c'è un bel sustain discreto diciamo le note cantano molto bene questo con un pick up che ho usato ora è il pick up al manico poi chiudo questo apro quest'altro al ponte e chiudo il tono avrò un po' il tono vediamo cosa succede ora apro tutti dei pick up col tono aperto leggermente ora chiudo il tono e metto i due pick up aperti diciamo che per quello che costa è un buono strumento ci darà qualche soddisfazione ciao a tutti ciao da Gianfrancesco Gianfrango Prezioso